allenamento pesante per i bicipiti bicipiti con carl bilanciere angolato perché bilanciere angolato bilanciere angolato perché è necessario in tutti gli esercizi che prevedono l'utilizzo delle nostre braccia sfruttare la meccanica la fisiologia del nostro corpo cosa fa un bilanciere angolato permette di non stressare in oltremodo le nostre articolazioni specialmente quelle dei polsi e offrire la giusta distanza per quanto riguarda le nostre mani quindi le mie mani saranno larghe alla presa più larga possibile per evitare questo movimento un po innaturale che noi tendiamo comunque a fare questo movimento quando alziamo le braccia questo si rispecchia dentro questo esercizio in modo tale che possiamo caricare di più con sicurezza e far volare i pesi per ottenere delle braccia belle toniche procediamo con il nostro amato carl notate andavo su ispiravo scendevo giù buttavo fuori fiato i gomiti non andavano troppo indietro ma non poniamoci troppi limiti insomma però favorivo il movimento in avanti per favorire scusate il gioco di valore favorire la distensione e la distensione del bicipite cosa dire caricate abbastanza su questo esercizio perché anche qui intervengono in maniera massiccia le spalle perciò con carichi piccoli e movimenti poco controllati i bicipiti viene molto poco stimolato buon allenamento buoni bicipiti buone braccia ciao a tutti